Domenica 13 ottobre ricorre la giornata nazionale delle famiglie al museo, un'occasione che intreccia la dimensione culturale con quella familiare nella quale Pesaro si propone con un percorso da mattina a tardo pomeriggio che si diramerà tra Novilara, Candelara e il Museo archeologico liveriano. Proposte che cominciano alle 10 di mattina al centro archeologico di Novilara con la direttrice della rete museale della via Flaminia Vanessa Lani che guiderà bambini e genitori lungo il percorso a spasso coi Piceni. Un progetto che si chiama Orientering archeologico sostanzialmente è un itinerario attraverso le vie del borgo, una specie di caccia al tesoro in questo itinerario a forma di tappe i ragazzi dotati di una cartina dovranno trovare dell'oggettistica. Da Novilara ci si sposterà a Candelara dove alle 15 si andrà alla scoperta del mondo dei filati al Museo dell'Arte Tessile PAC. Nell'occasione di questa giornata del 13 ottobre a Candelara faremo un laboratorio di tessitura. Io seguirò il discorso della tessitura proprio per dare continuità al museo proprio tessile con un'esperienza su telaio, quindi le persone che parteciperanno potranno fare l'esperienza direttamente su piccoli telaietti a chiodi con materiali naturali prettamente esistenti nel museo che sono lana, cotone, juta eccetera e lavoreremo con materiali specifici che sono spolette, che sono proprio dei materiali tecnici per lavorare la tessitura a telaio, telaio e fili e ci divertiremo in questa esperienza per far vedere di che cosa si tratta e tramandare in qualche modo questa tecnica che non vogliamo vada nel dimenticatoio, insomma nel tempo. Una giornata delle famiglie al museo che si concluderà al Museo Archeologico Oliveriano dove sarà lo stesso fondatore Annibale degli Abati Olivieri ad accogliere i bambini per una visita guidata al museo con un appassionante caccia al reperto. La visita sarà in costume, interpreterò il ruolo del nostro fondatore Annibale degli Abati Olivieri Giordani che illustrerà i pezzi della sua collezione che lui sin dall'inizio nel suo testamento diede alla gioventù culta e toperosa. Questo è il progetto, questa è l'importanza del museo che è un luogo per i giovani per apprendere e far amare la loro storia perché dalla storia, dalle radici della nostra città siamo il presente. Pesaro 2024 non sarebbe nulla se non avesse le radici anche nel suo museo, nella sua biblioteca.